Ciao a tutte e benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Come state? Tutto bene? Spero di sì, io sto bene e oggi sono qua a mostrarvi l'ultimo ordine che ho fatto su Temo, che mi è arrivato, che a dire la verità mi è arrivato un po' di tempo fa, un bel po' di tempo fa, ma non ero ancora riuscita a girare il video. Ma comunque sono qui e adesso vi mostro tutto quello che avevo ordinato. Alcune cose le ho tolte già dagli sacchetti di carta perché fanno un rumore pazzesco e comunque sia, ecco, sono questi, i primi articoli che vi mostro sono questi che sono due tappi per il lavandino, questo è un po' sformato ma immagino che poi un po' con il caldo, con l'acqua calda dovrebbe andare a posto. Sono due tappi, questi ne avevo già acquistato uno, forse nel primo o nel secondo ordine, adesso non ricordo, sempre di Temo. Ero abbastanza scettica quando l'ho preso, ho detto vabbè proviamo. E invece devo dire che funziona, funziona perfettamente, almeno nel mio lavandino della cucina va benissimo. Ho provato anche in quello del bagno ed è perfetto e così ne ho comprati altri due perché in cucina me ne servono due perché ho nel lavandino appunto della cucina, ho due vasche e uno anche nel lavandino perché quello che c'è non tiene assolutamente, non tiene assolutamente più e per cui ne ho acquistati due, questo lo ho ancora nella plastica e perfetti, perfetti per quello che li ho pagati, fanno il loro lavoro egregiamente. Altra cosa per la cucina è questo, è questo piccolo scola pasta, diciamo io l'ho usato, cioè l'ho usato scusate, l'ho acquistato per scolare il riso, è molto carino. Dentro mi piace perché dentro è lucido, invece fuori è più satinato, è plastica satinata e ha questi buchini dai quali spero non fuoriesca il riso ma non credo perché sono veramente molto piccoli perché lo scola pasta che ho io ha tutte delle righine e quando scolo il riso rimane incastrato e mi dà un fastidio. Allora ho visto questo e me lo sono presa, come sempre vi lascio i prezzi in sovraimpressione. Sempre per la cucina ho acquistato questa carotina, ecco qua, che ha questo intaglio e questa carota, diciamo così, serve da mettere sul bordo della pentola e per appoggiare il coperchio. Magari vi lascio una, vi lascio una foto per farvi vedere come funziona e questa l'ho vista in un video di temo dalla mia amica Sonia del canale, andate a seguirla perché è bravissima, Sonia ciao! E mi è piaciuta subito, adesso non ricordo se aveva anche lei la carota o qualcos'altro, forse il peperoncino può essere, non mi ricordo, Sonia scusami ma non mi viene in mente in questo momento. Comunque ecco, l'ho provato a prenderla anche lei, mi è piaciuta la carota e me la sono presa. Per la cucina penso, sì no, c'è ancora un articolo per la cucina e si tratta di questo, che a vederlo così non si capisce bene cosa sia, ma è un pelapatate da utilizzare in questo modo. Qua c'è la lama, eccola qui, così, e basta prendere la verdura e dovrebbe funzionare in questo modo, dovrebbe pelare le patate o le carote o quello che volete, insomma quello che vi interessa da pelare e dovrebbe funzionare in questo modo. Ma speriamo, mi ha incuriosito un sacco e vi farò sapere se funziona o meno. Altro aggeggino utile, infatti ne ho presi due, uno per me e uno per Giulia, è questo elefante con questa proboscide enorme e in pratica è un porta borsa per quando si va magari nei locali, nel bar, nei ristoranti, dove di solito non si sa mai dove lasciare la borsa, a me scoccia di lasciarla in terra, ma di metterla in terra, ma tante volte non si ha la possibilità di metterla, non si ha la possibilità, non si ha una sedia in più da poterla appoggiare e questo mi è sembrato una bella idea. Adesso vediamo se riesco ad aprirlo, ve lo faccio vedere. Ecco, sono riuscita ad aprirlo ed è così. In pratica questo si appoggia, come avete visto dalle immagini, si appoggia al tavolo e qua ci si mette la borsa, così da non farla, da averla soprattutto a portata di mano e non in terra e via dicendo. E questo è carinissimo, mi piace un sacco questo elefantino. C'erano diversi animaletti, se non ricordo male, perché, come dicevo, è tanto tempo che ho fatto l'ordine e non mi ricordo. L'ho fatto vedere anche a Giulia, è piaciuto anche a lei, per cui l'ho preso, ne ho preso un altro anche per lei. Ho preso anche queste scatole, questa confezione, quante saranno? Non mi ricordo. 30 pezzi, sono 30 pezzi di queste scatole che adesso vi faccio vedere, una l'avevo già provata a chiudere. Sono queste scatoline in plastica, trasparente, ecco, così. E le avevo viste in un video, non ricordo se era sempre tenuo o forse scinno, adesso non ricordo dove le aveva prese. Eli Valsecchi, ciao Eli. Le aveva prese e ho detto, ma che bella idea per mettere via i gioiellini, perché io le ho sempre un po', ho sì una scatolina, ma sono sempre tutti annodati, si annodano le collanine, si annodano gli anelli, se ne vanno qua e là. E insomma mi è sembrata una bella idea di metterli ognuno nella sua scatolina, poi magari prendere una scatola un pochino più grande e sistemarli bene. E oltretutto, essendo trasparente, si può vedere anche che cosa c'è all'interno e si possono scegliere, si può scegliere, si può vedere che cosa, quello che serve in quel momento. Ecco, ho preso anche questo scovolino che come potete vedere è lunghissimo, è stretto, è sottile ed è molto lungo e lo userò per pulire lo scarico della vasca da capelli o peli di Filippo, il nostro cagnolino lo laviamo nella vasca, ovviamente togliamo dalla griglia quello che rimane dopo aver fatto il bagno oppure dopo aver fatto la doccia, però poi per pulire più in profondità ho preso questo. Passando ad altro, ho acquistato queste cinque pinze che mi serviranno per fare la manicure, per fare il gel, sto provando una nuova tecnica per fare il gel e ne ho prese cinque, ecco queste, queste pinzette, cinque pinzette, e poi ho preso, ho preso dei tatuaggi, dei tatuaggi finti, sono tipo i trasferelli, perché allora mi piacciono tantissimo i tatuaggi, mi piace tantissimo vederli sulle altre persone, però forse l'ho già detto, forse in un video tag, adesso non ricordo, però su di me no, perché sono troppo permanenti e so che me ne stancherei e poi toglierli è una cosa un po' difficile e penso anche un po' dolorosa, però vengono in aiuto i tatuaggi, eccoli qua, questi qua, questi finti, sono tipo i trasferelli o comunque i, cos'erano quelli, quelli che si trovavano nei ghiaccioli una volta, i polaretti, c'erano nei polaretti, Giulia ne aveva, ne aveva a centinaia, ed eccoli qua, ho preso questi, c'erano queste, erano tre, mi sembra sì, sono arrivati, sono arrivate tre buste, con due o tre tatuaggi, sì, perché sono tutti diversi, ecco, questo con una scritta, questo con questo fiore, qui c'è perfino la faccia di un cagnolino, poi qui c'è, wow, questo c'è un leone, poi c'è blooming, e c'è anche quest'altro, ah, questo è un aereo, che bello, con dei fiori intorno, bellissimo, e l'ultimo invece, cosa sono, vediamo un po', qui c'è scritto forever, con questo, con questo uccello, che bello, e invece qui c'è scritto hang out to your dreams, bellissimo, anche questo, con questa fenice, sembra quella, una fenice, belli, molto belli, e non ho finito, ho preso anche un altro pacchetto, sempre di, di tatuaggi, e questi in pratica, sono bellissimi, perché oltretutto, Giulia li sta facendo da un po', e anche mio marito si diverte a farli, ma invece ci sono diverse fantasie, sono sempre tutte floreali, con ogni tanto c'è qualche, anche qualche animaletto, vediamo un po', mi faccio vedere qualcuno, perché sono veramente tanti, sono molto carini, sono anche molto dettagliati, che belli, sì, sì, sono tutti, più o meno, sono tutti su questo tenore, sono con i fiori, ecco qua, qua c'è addirittura con un cervo, molto molto carini, no, aspetta, questo, eccolo qua, qua invece cos'è, oh, che carino, cos'è questo, un orsetto, un micetto, non capisco, molto carini, ce ne sono di diversi, di diversi generi, sono anche con frecce e ghirigori vari, ecco qua, anche questo, molto carino, belli, questi non so quanti erano, vediamo se c'è scritto sulla confezione, questi erano 30 pezzi, anche questi 30 pezzi, e come sempre, anche questi, anche di questi vi lascio, vi lascio il, il, il prezzo, e se volete vi lascio anche i link, ultime due cose, sì, sono degli adesivi che ho preso per, per fare step booking e sono di queste, con tutte queste ragazze, vestite in maniera diversa, molto molto carine, vediamo un po' come sono, perché non li ho ne ancora aperti, dovrebbero essere, sì, due fogli per ogni, per ogni, per ogni fantasia, insomma, così ce ne ce ne sono, e uno, due, vedete che sono uguali, ecco, e poi c'è questa fantasia, così, con queste ragazze, ma poi ci sono anche tutti, anche i vari, i vari disegni diversi, con le scritte, questo cosa c'è scritto? Happy Forever, oh wow wow, molto carino anche questo, e questo è l'ultimo, è l'ultimo pattern, l'ultimo schema, oh che carina questa vestita di rosa, molto carine, e ultimo, ma penso che questo fosse in regalo, perché quando ho fatto l'ordine, c'era, c'era questa, c'era la promozione, che se acquistavi un tot, ti facevano, ti regalavano quello che volevi, potevi scegliere un regalo, e io mi sono comprata, mi sono fatta arrivare, anzi, mi sono scelto, ho scelto sempre queste, tutte queste ragazze, vestite in maniera diversa, che queste sono molto carine per fare decoupage, per fare quello che vorrei fare, con, non decoupage, scusate, con lo scrapbooking, e sono tutte queste ragazze, e sono molto carine da fare i vari layout colorati, e inserendo appunto queste ragazze, insomma, questi soggetti così femminili, ecco qua, ce ne sono di stracarine, oh che carina questa, girl, molto molto carine, molto, intanto le appoggio qui, anche questa, molto 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 belle, mi piacciono un sacco, bene, vediamo se riuscirò ad usarle, vediamo che cosa ne farò, ma ma che belle, ce ne sono, sono tutte diverse, non ce n'è neanche una doppia, sono proprio una diversa dall'altra, molto 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 belle, queste vanno bene anche per fare i mini, i mini notebook, bellissimi, ecco qua, non ve le faccio vedere tutte, perché sono davvero tantissime, il mio haul di Temu termina qui, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere rimaste fino qui con me, spero sempre di farvi un po' di compagnia, vi mando un bacio grande, e ci vediamo al prossimo video, ciao!